Antracht, l'intervista Siamo al WA Japan Film Festival 2014 a Milano alla presenza del regista Daigo Matsui che presenta in anteprima mondiale Sweet Poolside La traduttrice di Matsui ci spiegherà in breve la sinossi di questo film e poi passeremo la parola al regista stesso che ci concederà una breve intervista Antracht Questa storia è una storia molto piccola pensando del mondo come funziona e i protagonisti sono prima del liceo questo problema del adolescente se vediamo noi è piccolo invece per loro è molto grande, molto pesante, molto importante quindi volevo focalizzare questo loro mondo, loro pensiero Ho trovato molto poetica la scena del ruscello veramente bellissima soprattutto anche grazie allo scambio di sguardi tra il ragazzo e la ragazza che ha uno sguardo amoroso e volevo chiederti se appunto l'hai creata tu oppure se è sempre parte del manga da cui si ispira la storia ho preso solo una parte da manga originale tutto il resto, piuttosto quella parte, cioè l'ultima parte ho realizzato io ho preferito fare io per esempio con la scena della razzatura si faceva un spogliatorio di questi club di nuoto io allora ho fatto fare accanto al fiume quindi la maggior parte ho pensato io ho realizzato io mi è piaciuto molto anche questo dialogo queste immagini che ci sono anche all'interno sempre di questa scena d'amore del ruscello è molto immaginifico nel senso che racconta proprio le sensazioni del ragazzo la prima esperienza volevo sapere se comunque ha attinto anche alle sue diciamo alla sua adolescenza magari anche i suoi primi ricordi purtroppo no perché io nella scuola media anche superiore le scuole erano maschili quindi frequentavano solo i ragazzi però forse io ho frequentato la scuola media superiore perché c'erano presenti anche ragazze magari mi sarei comportato come lui sicuramente avrei mangiato i peli ok bene e per caso pensa insomma adesso ha qualche cosa all'attivo appunto qualche progetto magari per il futuro pensa di fare un altro film sì appena è finito di girare il film cioè stiamo facendo questo montaggio questa protagonista è una ragazza di un liceo però lei è un po' diciamo lesbica però non così pesante come questo film sui tu poolside e si riesce un po' di farci pensare chi sarà questa ragazza è così ok benissimo se ci può fare un saluto a Antract ci fa piacere se ci dice un ciao buonasera mi chiamo Daigomatsui in film racconta i adolescenti che hanno problemi con i peli film è perverso grazie mille grazie allora ciao ciao Antract